Un finale di partita nervoso che non fa bene al calcio e a chi lo ama, l'epilogo di Vigortrani Sansevero è da dimenticare, fra spintoni, calci e qualche parola di troppo, tutto sotto gli occhi di arbitro e assistenti. Tornando alla cronaca in campo, 26 gennaio, questa la data dell'ultima vittoria dei ragazzi di Sisto in campionato, quasi un mese dopo al comunale, i biancazzurri ritrovano il bottino pieno battendo un Sansevero Maidomo con il punteggio di 2-1, con i Foggiani più volte vicini al pareggio nel finale. Mister Sisto deve fare a meno tra gli altri di Campanella e Dentamaro, oltre a Picci, e dispone un modulo pieno di adattamenti. Il Sansevero di Mister Cavallo schierato con il 4-3-3 è reduce da tre vittorie consecutive e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Primo tempo che si apre formalmente al decimo con la rete di Negro che disegna una traiettoria di sinistro imprendibile per Domingo e subito 1-0 per la Vigor, pochissimi secondi dopo tuttavia brividi per un fallo non da ultimo uomo su Villani ma poco ci manca, solo giallo e punizione. Gli ospiti si rendono per la prima volta pericolosi davvero al 27esimo, Morra si porta tutto solo davanti a Pellegrino ma il suo sinistro è da dimenticare, pareggio sfiorato. Lo stesso esterno offensivo al 40esimo di testa manda di poco alto sopra la traversa. Un finale positivo per i Foggiani che al 44esimo ci riprovano con la conclusione di Conè allontanata in tuffo dall'estremo difensore tranese. All'intervallo è 1-0 per la Vigor. La ripresa si apre con lo stesso spartito finale del primo tempo. All'ottavo Conè di testa impegna la presa semplice a Pellegrino. Un minuto dopo Villani e Galetti creano scompiglio in aria tranese, azione disinnescata in corner. E l'undicesimo quando Morra prova la botta da posizione defilata, Pellegrino respinge e poi Villani non riesce a ribadire in rete. Nel momento migliore del Sansevero spunta l'uomo più in forma del Trani. Diciannovesimo, Negro recupera palla dalla propria aria e parte in contropiede. Una corsa di oltre 50 metri. Assist per la corrente Mazzilli e Diagonale che lascia impietrito Domingo. E 2-0 per la Vigor, comunale in festa. Nel momento più difficile i ragazzi di Sisto trovano addirittura il raddoppio. Sansevero che reagisce immediatamente. Minuto 32, calcio d'angolo, Pellegrino non benissimo, D'Angelo ci prova ma spara troppo alto. Al trentatresimo il neo entrato Alessandro Morra entra in aria, lotta sul pallone, finisce a terra e calcio di rigore. Dal dischetto Villani non sbaglia e accorcia le distanze. Sansevero ancora vivo, inizia una nuova fase di sofferenza per i padroni di casa. Al trentasettesimo ancora Villani tutto solo in aria, Pellegrino non si fa intimorire, salva il risultato. Al quarantesimo rieccola Vigor con Negro che anticipa Domingo e cerca la rete da posizione impossibile, sfera in angolo. Al quarantaquattresimo Fantasia prova la botta e centra una clamorosa traversa. Sansevero ancora vicino al pari, non c'è più tempo, triplice fischio e 2-1 il finale. Il Sansevero ferma a tre la sua striscia di vittorie consecutive ma dimostra di essere ancora aggrappato al campionato d'eccellenza. Vigor Trani abile a sfruttare le sue occasioni e a stringere i denti, un pizzico di fortuna non guasta. Il terzo posto è ancora tranese.